Lavorare su un borgo abbandonato e mettersi in ascolto. Sabato 27 e domenica 28 agosto alla Turo di Valle Castellana per una montagna abbandonata. Questo progetto in questo caso è la terza azione sonora in forma di rito per la Turo e la prima esperienza. Sì, per la Turo e la prima esperienza siamo stati subito entusiasti di accogliere questo progetto in questo borgo abbandonato fin dai primi anni 50 per le gravi problematiche economiche e poi con le successive problematiche dovute al terremoto purtroppo. Questa associazione, la Vivo Associazione, riporta per due giorni in questo borgo raggiungibile solo a piedi un'esperienza diciamo su De Generis perché accoglie e porta gruppi di persone in questo borgo abbandonato dove appunto loro cercano tramite questi riti di insonorizzare all'interno delle abitazioni, all'interno delle case, dei vicoli, della natura quello che poteva essere anticamente la vita di questo borgo antico. Il progetto prevede anche una ricerca degli antichi canti popolari del luogo e quindi una residenza che ormai è in corso di una settimana con gli incontri con le comunità. Sì, è partito proprio ieri il progetto diciamo proprio di elaborazione perché il progetto è partito molto prima con appunto la cittadinanza, sono riti che vengono appunto ricercati, canti, tradizioni popolari e quant'altro in tutto il territorio circostante appunto di Valle Castellana perché Laturo in questo momento appunto come ripetevamo è un borgo completamente abbandonato.